Supereroi in corsia e Casper Animazione per una volta non tra le corsie degli ospedali ma in una villa, la Villa Comunale di Quarto, per regalare una giornata di gioia ai bambini di quarto in occasione di Halloween. Sì, domenica mattina saremo nella Villa Comunale dalle 10.30 alle 13.30 per regalare una festa ai bambini di quarto e non solo, infatti sono invitati anche tutti i bambini della zona ferrea, bambini di Napoli, insomma i bambini dei Romuli Limitrofi ci possono raggiungere qui a quarto per una festa gratuita aperta a tutti per bambini con balli mostruosi, atmosfere mostruose, personaggi di Halloween, giochi a tema, zucchero filato e tante altre sorprese che non sto qui a dirvi in questo momento. Un'intensa mattinata di giochi e allegria che la Casper Animazione con Supereroi in corsia ha voluto regalare alla città in qualche modo per ringraziarla dell'affetto e della solidarietà che ha sempre dimostrato nei confronti del progetto che stai portando avanti. Sì, certo, soprattutto per quanto riguarda le attività che facciamo qui a quarto, oramai da anni, comune che mi ha ospitato per 24 anni, anche se adesso sono residente altrove, ci sono qui le radici, quindi qui faremo questa manifestazione per ringraziare appunto la popolazione di quarto che ci sopporta sempre, basti pensare ai sold out di tutte le edizioni dei festival della Magia Passati, quest'anno faremo il festival della Magia 2017, quindi questa festa per ringraziare i quartesi e i loro bambini. E allora ricordiamo giorno, data e ora? Allora, è domenica mattina dalle 10 e mezza alle... mamma mia! Ragazzi, ragazzi, ma la festa non è oggi, la festa è domenica mattina. Ma come? No, sì, domenica mattina dalle 10 e mezza alle 13 e 30 della villa comunale di quarto. Allora vi aspettiamo in tanti! Vi aspettiamo! A domenica! Ciao! Mi raccomando, a correde in tanti!